Sono sicura che ognuna di voi amiche conosce bene i punti salienti della forza femminile, vero? Ce ne sono tanti e mi piacerebbe leggere qui sotto quelli che mi scrivete voi, quelli che sono importanti per voi. Io in questo video voglio focalizzarmi su tre punti in particolare. Lo faccio per tenerli a mente io stessa e perché anche voi non li dimentichiate. Giusto, con tutte le cose che abbiamo da fare noi donne, vero? Già, siamo sempre in movimento per trovare soluzioni a qualsiasi tipo di problema con una determinazione incredibile. Tutti abbiamo infinite risorse dentro di noi, uomini e donne, ne sono convinta, ma so anche che noi donne abbiamo questa fortissima e graziosissima capacità di rimettere insieme i pezzi, anche dopo esserci rotte completamente, e ripartire con una integrità e un'eleganza uniche. E questo è il nostro primo punto di forza? Nì, questa direi è una nostra dote spontanea. Spontanea. Ecco i tre punti di forza che possiamo decidere di nutrire per vivere meglio il nostro essere donna. Il primo è la capacità molto femminile di entrare in rapporto facilmente con la nostra interiorità, di riuscire ad ascoltare il nostro cuore e sentire le emozioni che proviamo dentro di noi. E non è una dote spontanea anche questa? Sì, ma questa dote può essere trasformata in un punto di forza, perché se riusciamo a percepire con consapevolezza i nostri sentimenti, abbiamo chiaro cosa sentiamo nelle diverse situazioni. E questo significa una cosa importantissima, che possiamo conoscerci bene. Ma non è così per tutti? Purtroppo no. Ma questo ci porta al secondo punto. Se ci conosciamo bene, possiamo avere chiaro che tipo di vita vogliamo vivere, quali sono i nostri obiettivi e, ancora più importante, come vogliamo essere trattate dalle persone che contano per noi. Se siamo chiare con noi stesse, aiutiamo le altre persone a capire quali sono i nostri valori. E vedendo che noi li rispettiamo per prime, anche gli altri saranno portati a rispettarli e a rispettarci. Questo è un grande punto di forza. Il terzo punto di forza è il coraggio che noi donne sappiamo tirare fuori quando arriva il momento di esprimere i nostri veri valori, le nostre esigenze più profonde, quando alziamo i nostri standard e chiediamo di più, perché sappiamo di meritarlo. Lo chiediamo a noi stesse prima e poi a chi ci sta vicino. E questo è un enorme punto di svolta, una grande assunzione di valore per la nostra vita. Ricapitolando, sappiamo entrare in contatto con le nostre emozioni, ci conosciamo profondamente e esprimiamo i nostri valori più profondi. Non ho concluso, ma mettete un bel mi piace nel frattempo. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E se già non lo avete fatto, iscrivetevi al canale facilissimamente con un click e attivate le notifiche. Per concludere, visto che stavamo parlando di valori, vorrei dire una cosa a cui tengo. Noi donne abbiamo una grande responsabilità nei confronti dell'ambiente intorno a noi. A me piace l'idea delle donne come educatrici, non come manipolatrici. Sapete qual è la differenza? Entrambe cercano di ottenere un risultato, ma solo l'educatrice lo fa attraverso l'esempio. Se condividete questo pensiero, condividete questo video con le vostre amiche. E noi ci vediamo al prossimo video per una vita super positiva, naturalmente. Ciao! Sì, sì, lascia andare. Sì, sì, lascia andare.